Taranto piazza San Lorenzo proprio alle spalle di Viale Magna Grecia e ovviamente nelle adiacenze della omonima parrocchia di San Lorenzo un bel piazzale vedete hanno appunto hanno provveduto a tagliare a ripulire le siepi ma le cose si fanno a metà si fanno a metà perché poi lamio occhi di dovere appunto non ha provveduto a rimuovere tutta quella sporcizia quei rifiuti che si appunto annidavano sotto le siepi un lavoro incompleto fatto a metà e allora vedete le siepi belle tagliate curate e la schifezza al di sotto alla base insomma qui si fanno le cose a mezzo servizio non si coordinano i soggetti questo è il vero problema io istituirò un assessorato proprio alla vivibilità urbana alla qualità della vita questa è invivibilità urbana e qui si dovranno coordinare amministrazione comunale assessorati uffici tecnici amio perché non è possibile che si faccia un lavoro e poi rimanga la porcheria a terra ma mi pongo una domanda come diceva Checco Zalone ma questi sono del mestiere?